guardia pronti preparazione, attacco, tocca, punto guardia pronti, attacco guardia, pronti attacco, primo, no, rimessa, tocca, punto non accendi subito guardia pronti, attacco preparazione, attacco, tocca, punto guardia pronti, attacco, attacco, tocca, punto guardia pronti, attacco guardia pronti, attacco, attacco, tocca, punto guardia pronti, attacco, tocca, punto guardia pronti, attacco, contraattacco, attacco, tocca, punto grazie 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 guardia pronti pronti, attacco, 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 tocca, punto guardia pronti, attacco, tocca, punto guardia pronti guardia pronti guardia pronti preparazione attacco tocca avete un minuto guardia pronti avvo guardia pronti avvo per capire perché spero e non ce l'ha fatto è un errore che non c'è guardia è un errore che non c'è guardia 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 attacco attacco parato risposta tocca guardia pronti avvo guardia 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 pronti attacco 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 tocca punto guardia attacco tocca punto guardia guardia tocca a bravo 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 preparazione è confermata preparazione tocca subito si tocca e poi dopo pari guardia pronti alto attacco tocca punto guardia pronti attacco tocca punto guardia guardia pronti pronti alto attacco no contro attacco tocca punto guardia guardia pronti alto attacco da sinistra destra tocca punto video vedo il video bravo passchera passchera confermata parta Animo!